Bisogna capire perché siamo così, purtroppo abbiamo questo grosso difetto, forse ci siamo snaturati anche un po' noi da un punto di vista di quello che abbiamo fatto fino adesso di cercare di andare sempre a aggredire gli avversari, abbiamo aggredito di meno, non vorrei che questo fatto di aggredire di meno fosse stato nei confronti dei giocatori un essere meno aggressivi, però si è sbagliato tutto oggi. Mister, complimenti fatti a Lecce, oggi purtroppo però è difficile farle complimenti anche perché secondo me, mi perdoni se io lo dico, probabilmente la squadra non è stata aiutata oggi, perché a un certo punto la squadra era in difficoltà, forse bisognava cambiare qualcosa, non mi sembra che lei insomma abbia trovato le giuste contromisure nel momento in cui la squadra era andata in difficoltà. Sì, ma noi dopo il primo gol sicuramente sì, io penso fino al gol loro del 1-0 abbiamo avuto le occasioni per passare in vantaggio, loro ci avevano impensierito con i calci piazzati, siamo andati in difficoltà, Nordi ha fatto due grandi parate ma su calcio piazzato, su azione non avevano fatto nulla, noi non siamo riusciti a reagire, molto probabilmente anche io non sono riuscito a dare dopo il primo gol le giuste, non direttive però cercando di creargli qualche problema, ti ripeto oggi ci siamo un po' snaturati di quello che è stato il nostro calcio fino adesso, sotto tutti gli aspetti, soprattutto da un punto di vista di non possesso, non siamo stati quelli, forse l'abbiamo pagata di più ma non mi è piaciuto l'atteggiamento dopo che abbiamo preso il gol, peccato ti ripeto abbiamo fatto tre passi indietro perché veramente pensavo di essere sulla strada giusta, questa squadra deve, ma non voglio dire un aspetto mentale perché non è, non sarebbe giusto neanche dire quello, è stata una partita completamente toppata sotto tutti i punti di vista. Mister, lasciando stare le occasioni create perché comunque sono state parecchie, io personalmente ho visto un Catanzaro che ha sofferto a centrocampo tanto perché comunque ho visto Maite e Onescu che correvano quasi alla cieca, poi ho visto anche comunque una squadra che continua a soffrire sui calci piazzati dopo tre mesi e una squadra comunque anche dal punto di vista difensivo forse giocare con due terzini adattati a difensori centrali, ho visto gli avversari che saltavano tante volte la squadra creando superiorità numerica. No, tutte giuste oggi, forse l'ultima no perché ti ripeto noi non avevamo subito, cioè abbiamo subito purtroppo sul calcio piazzato le palle gol, però sul manovrato non avevano fatto niente, noi abbiamo preso una traversa, abbiamo anche sbagliato la palla di Letizia, quella di Falcone un'altra prima porta vuote va fuori, quella di Letizia ancora prima delle gol, cioè tu prima di passare in svantaggio hai avuto quattro palle gol, ma non voglio parlare di quello, non è la giustificazione, non sono le quattro palle gol, oggi si è sbagliato tutto, il fatto dei tre centrali, no abbiamo sbagliato dopo il primo gol che amorosamente non dovevamo avere quella reazione, cioè dovevamo reagire diversamente, in mezzo al campo forse siamo andati in difficoltà, con i due mediani e niente, peccato, si è sbagliato tutto, bisogna ripartire tutto da capo, cercando di tornare a essere velocemente quelli che siamo stati nelle altre partite e si è toppata e questa è la verità, non ho da nascondere nient'altro che dire che è andata così, assolutamente. Oggi avete spazientito anche il pubblico, è stato negli spogliatoi razionali così come lo è adesso con i giornalisti? No, ma io sono sì, perché penso di essere così, oggi c'è da chiedere scusa alla gente, cioè non bisogna vergognarsi di quando si sbaglia di chiedere scusa, oggi lo sappiamo tutti, da me per primo ai ragazzi che hanno sbagliato completamente tutto, succede, non doveva succedere purtroppo, ma è accaduta, la prima sbagliata in questo modo qua, bisogna fare nostra colpa e cercare di aumentare quelle che sono le motivazioni, forse ci ha fatto male Lecce, penso, se torno indietro ci ha fatto male quella partita lì, forse non siamo quelli, non siamo questi e dobbiamo trovare quella giusta tempra, quel giusto modo di concepire anche la Lega Pro, passami il termine. Dobbiamo tornare a essere quelli, forse anche troppo spregiudicati che siamo stati, forse è una chiave di lettura che questa squadra ormai aveva immagazzinato, hai cercato di cercare a volte di risparmiare, di andare un po' meno contro uomo per essere più brillanti, ma forse non ha pagato, forse non ha pagato, forse dovevamo continuare a essere quelli che siamo stati nelle altre partite e di andare a aggredire ancora molto più alti, perché forse abbiamo immagazzinato talmente questo modo di essere che passare a fare alto siamo andati un po' in difficoltà. Senta mister, io mi consento di tornare un attimo sulla domanda del collega a proposito del centrocampo, lei anche alla vigilia ha detto oggi non vedremo un bel Catanzaro, naturalmente nessuno di noi si pensava di vederlo così brutto, però le chiedo, insomma io insisto su questa cosa, indipendentemente dalle occasioni di gol, io ho visto un Catanzaro che anche prima del gol era in difficoltà. Sì sì, ma oggi sono d'accordo. Allora a quel punto mi chiedo e le chiedo, non era il caso di rinforzare gli ormeggi al centrocampo magari per cercare di... Avremmo dovuto levare l'attaccante, potrebbe essere una soluzione, però non volevo far passare un segnale di levare un attaccante per dare un segnale un po', però poteva essere, oppure mettere quel giocatore sulla tre quarti, come poteva essere lo spighi di Lecce o il Falcone e passarlo sul mediano basso, però volevo rimanere con i tre attaccanti, perché paradossalmente non avevamo sofferto tanto, però non riuscivamo a essere incisivi come nelle altre partite. Quindi sono d'accordo con te in questa lettura. Ministro, mi chiedo scusa, ma Vargasberg? Lei non nomina Vargasberg? No, ma Vargasberg, noi in campo abbiamo un palleggiatore che è Maita. Giocare con due palleggiatori in un centrocampo a due diventa forse già, se andiamo in difficoltà in alcune partite, giocando con un palleggiatore tipo Maita e un incontrista tipo Nesco, tipo Marin, tipo anche Badier, giocare con due palleggiatori in un solo centrocampo a due potremmo andare ancora in ulteriori difficoltà. Penso perlomeno da un punto di vista degli equilibri tattici. Mister, lasciamo stare il secondo tempo dove nel giro di cinque minuti è successo quello che è successo. Nel primo tempo la posizione di Falcone è quella di Infantino. Preciso meglio, Infantino spesso e volentieri è tornato dietro, addirittura dietro la linea dei mediani. Lui che poi non può recuperare perché non essendo uno scattista non può poi andare avanti. No, ma hai ragione, siamo stati troppo bassi. Non eravamo noi oggi nella nostra consueta fase di non possesso. Non eravamo noi, eravamo troppo bassi. Ti ripeto, oggi è stata una partita toppata sotto tutti i punti di vista. È capitato, non c'è da vergognarsi a dirlo. Come altre volte ho dato giustificazioni giocando bene o perdendo, giocando bene vincendo. Oggi c'è una partita completamente sbagliata e non mi attacco neanche alle 4-5-6 pallegol create, non hanno significato dopo una prestazione del genere. Però Mister, questo è un po' preoccupante. No, perché insomma, voglio dire, dopo 3-4 mesi dal suo lavoro, adesso che c'è tutto la rossa a disposizione, uscire così con questa partita, insomma, non è stato un buon segnale. No, non è stato un buon segnale, però so che non siamo questi, perché non siamo questi. Molto volentieri, ti ripeto, non siamo neanche quelli dal punto di vista della prova, quelli di Lecce. Dobbiamo tornare a essere quelli di Bisceglie, col Cosenza, col Monopoli, col Fondi. Una squadra aggressiva, una squadra che è casomai anche spregiudicata nell'andare a aggredire l'avversario, perché penso che questa squadra ha più difficoltà, come si avvicina alla propria porta, va in grosse difficoltà. Più noi riusciamo a stare alti, più possiamo ottenere beneficio, è stata una controprova che ho avuto anch'io e ti ripeto, mi dispiace per la gente di oggi, sono abituato a chiedere scusa quando si sbaglia.